Ciao amore, come stai? Ho ricevuto una telefonata bomba. Cioè? Io sono uno dei più grandi registi teatrali in vita mai esistiti. Tu mi ami? Sai quando uno dice farei di tutto per questo ruolo? Che lo voglio fare questo spettacolo? Io ho bisogno di recitare, sono un'attrice. Il signor Novembre recita per Romeo. Ha un nome questo, signor Novembre? Otto. Otto Novembre? Il mese dei morti. Prego, signor Novembre, prego, prego. Quella sinestra all'Oriente è Giulietta al Sole. Che pianeta l'hai trovato questo? Io devo essere tutto per te. Il tuo fratello, il tuo condottiero, il tuo cuore. Chi è Giulietta? È la rivoluzione pronta a dare la vita per una buffonata come un amore. Questo è quello che deve fare un vero artista. Spostare l'ottica e guardare il mondo con i propri occhi. perché la tua voce arriva al cuore. Pronto? Che c'è? Mia nonna. È morta. No, si è ripresa. Vabbè, però allora abbina quello che ti succede alla faccia. che c'è? No. No. No.